Leonardo Silva Revisore Ho passato gli ultimi dieci anni in spiaggia e prima che cominciate a invidiarmi un po' troppo in realtà li ho passati più a raccogliere spazzatura e a cercare di capire che cos'era tutta questa plastica che trovavo in spiaggia, da dove veniva e come cercare di fermarla. C'erano molte cose che non mi quadravano e non mi quadrano ancora adesso, come sia arrivato un frigorifero in spiaggia, un telefono o un asciugacapelli. E quello che veramente non riuscivo a capire è come mai, come mai, come mai, così tante persone andassero in spiaggia a pulirsi le orecchie. Questo veramente non riuscivo a spiegarmelo. Quello che ho capito invece è che gran parte della plastica che troviamo in spiaggia, solo poca parte di questa plastica arriva dal mare. La gran parte invece viene dalle coste e viene dall'entroterra. E una parte importante, la metà degli oggetti che troviamo in spiaggia, sono in realtà oggetti uso e getta, di uso quotidiano. E sono un po' la somma di tanti piccoli comportamenti quotidiani che abbiamo ciascuno di noi, moltiplicati per milioni di volte. E allora, ora finalmente il mare di plastica è diventato un argomento di grande attualità, per fortuna. Anche se sembra più che il problema, che l'allarme che suscita, sia più rivolto alle isole di plastica del Pacifico, piuttosto che al mare di casa nostra. E allora, come diceva Luca giustamente, una cosa abbiamo capito anche, o perlomeno l'ho capita io, che la plastica è un materiale meraviglioso. Non dobbiamo demonizzarlo. Le nostre automobili, i nostri aerei adesso sono leggerissimi, consumano pochissima, poca, carburante. Ha salvato la plastica, ha salvato tanti animali, pensate alle tartarughe, agli elefanti. Salva anche le nostre vite. Il problema non è la plastica. Il problema è come noi stiamo usando la plastica, che è un materiale fantastico, utilissimo, leggero, resistente, e lo usiamo per degli usi, appunto, che si esauriscono in pochissimi minuti. E poi è talmente poco costosa che ci dimentichiamo e non facciamo caso o attenzione a come la smaltiamo. E allora, da questa idea, dal cercare di capire e come uscire da questo problema, abbiamo creato un progetto europeo in cui è una grande alleanza fra tutti gli amanti del mare, fra tutti i velisti, i subacquei, i diportisti, i pescatori sportivi, i ragazzi delle scuole, gli insegnanti, tutti i cittadini. E a tutti stiamo chiedendo di fare tre cose molto semplici. Non buttare, raccogliere e cercare di usare meno plastica, useggetta. Sono, insomma, delle cose di estrema semplicità e forse addirittura banali. Però andiamo a vedere un attimo che cosa vuol dire non buttare, per esempio. Non buttare vuol dire fare più attenzione. Io sono certa che nessuno qua di voi butti i sacchetti della spazzatura per le strade, vero? Però, quando andiamo in spiaggia e lasciamo un sacchetto in un contenitore strapieno, guardate che è esattamente la stessa cosa. Perché basta che passi un cane, un gatto, un uccello, apra il sacchetto e a quel punto tutta la spazzatura che è contenuta si spargerà e andrà a finire in mare. In questi 18 minuti di chiacchierata, in Italia si fumeranno 2 milioni e mezzo di sigarette. E a giudicare dai marciapiedi, come li vediamo in tutte le città o nelle spiagge, molte di queste sigarette vanno a finire per terra. Allora, fumatori, per piacere fate attenzione, perché i mozziconi di sigarette sono di plastica, intrisi di sostanze tossiche, e quindi ci vuole veramente molto poco per eliminare uno dei rifiuti più frequenti sulle spiagge, mozziconi e accendini. Questi sembrano oggetti assolutamente così innocui, allegri, colorati e divertenti, sempre plastica sono. E una parte importante, addirittura un terzo dei rifiuti che troviamo in spiaggia, derivano da persone che sono andati in spiaggia a divertirsi, quindi sono giocattoli, penne, occhiali, creme solari e cose del genere. O merendine, ma che devo puntare di qua. Quindi, attenzione di nuovo, con un po' più di attenzione possiamo eliminare una parte importante di rifiuti. Ma l'attenzione verso la pulizia del mare deve partire anche dall'entroterra, i palloncini ce lo dimostrano. Tutto quello che va su naturalmente poi scopia e ne cade giù, e quando sono in mare i palloncini assumono un po' la stessa forma e le stesse movenze di meduse o calamari, che sono il cibo preferito di pesci, tartarughe e uccelli. Quindi, palloncini sì, ma non facciamoli volare, per favore. Ma l'attenzione del mare parte dalle nostre case. Nei nostri gabinetti, per piacere, non dobbiamo buttare nulla, perché questi sono alcuni dei rifiuti che troviamo più spesso sulle spiagge. E anche questi, e quindi abbiamo risolto il problema, non erano tutte le persone che andavano in spiaggia a pulirsi le orecchie, ma erano tutte persone che si pulivano le orecchie e poi gettavano i bastoncini, non nel cestino, ma nel gabinetto. Quindi, un poco di attenzione in più, riusciamo a eliminare una parte importante di rifiuti. Dalle nostre docce parte quotidianamente una nuvola di frammenti di plastica verso il mare. Sono gli esfolianti. Guardate da queste fotografie quanta plastica è contenuta in un singolo flacone. Anche qua, per fortuna, dall'anno prossimo saranno proibiti, ma già da subito possiamo evitare di comprarli semplicemente guardando nell'etichetta e se c'è scritto polietilene, evitiamo. Questa è la strada preferita per i rifiuti per finire in mare, i nostri fiumi. Quindi, particolare attenzione dobbiamo prestare quando siamo vicino ai fiumi, per l'appunto. Giusto per farvi vedere, lo stilicidio continuo di spazzatura che c'è, che arriva in mare attraverso i fiumi, è questo. Basta un tappo, che si formi un tappo sotto le arcate di un ponte e vediamo effettivamente quanta plastica dall'entroterra arriva al mare. E infine, l'attenzione che dobbiamo porre è anche quando vogliamo svuotare le nostre cantine. Siamo sicuri che il dondolo della nonna o il triciclo di nostro ripote vada a finire veramente all'isola ecologica o non venga abbandonato sotto il primo ponte? Attenzione a chi affidiamo i nostri oggetti. Raccogliere. Raccogliere è importante perché nessun paese al mondo ha le capacità economiche di andare a pulire il mare. Il momento migliore per pulire una spiaggia è d'inverno, quando ci sono le burrasche. E perché dobbiamo raccogliere? Perché abbiamo ormai veramente testimonianze infinite dei danni che la plastica possa fare agli animali, che ci si infilano dentro, si intrappolano, mangiano, soffocano. Per non parlare poi di altri impatti, quanto costa ripulire le nostre spiagge? Sono un danno per la navigazione. I rifiuti sono veramente... Noi ci stiamo focalizzando tanto sulle famigerate isole di plastica del Pacifico senza renderci conto che nel nostro Mediterraneo c'è la stessa concentrazione di microplastiche che c'è in queste famigerate isole. E perché è presto detto il nostro mare è un lago, tutto quello che c'è finito dentro è ancora lì. E se non le vediamo è semplicemente perché si è frantumato. E quindi raccogliamo degli oggetti finché sono ancora interi, perché se no se li lasciamo in spiaggia si frantumeranno sotto l'azione del sole, del sale e delle onde, fino a frammenti così piccoli che poi a quel punto è veramente impossibile recuperarli. E non pensiate che questi siano più innocui, anzi forse sono ancora più subdoli e più pericolosi, perché poi alla fine diventano a portata di bocca del planton, che è il primo anello della catena alimentare. E quindi raccogliamo, raccogliamo da soli, Sergio ci ha appena detto portiamoci due sacchetti quando andiamo a fare il bagno, coinvolgiamo i nostri amici. E per fortuna nel nostro grande progetto abbiamo coinvolto tanti subacquei, perché se ci sembra orrendo quello che abbiamo trovato in spiaggia, quello che avete visto in spiaggia, in realtà la gran parte dei rifiuti si trova sul fondo del mare, quindi sommozzatori sono gli unici che riescono ad andare a pulire sul fondo del mare. Ma se fare attenzione e raccogliere sono due cose fondamentali, la cosa più importante in assoluto è ripensare il nostro rapporto con la plastica. Senza essere talebani, in realtà io sono probabilmente vestita di plastica, però la metà dei rifiuti che troviamo in spiaggia è usegetta e di nuovo noi stiamo utilizzando un materiale che è virtualmente eterno per degli utilizzi che si esauriscono in pochissimo tempo. Ci siamo un po' ubriacati di questo materiale che è allegro, comodissimo nella vita di tutti i giorni. Dobbiamo però imparare a utilizzarlo per quegli impieghi per i quali un materiale così eterno, da una vita così lunga, sia effettivamente giustificato. Quindi ciascuno deve cercare nella vita di tutti i giorni di trovare il modo per diminuire l'uso di plastica usegetta, sostituendolo con dei materiali tipo il vetro, ad esempio. Ma attenzione che la bioplastica è una soluzione, ma non è la soluzione, perché un sacchetto di questi che vada a finire in mare, loro si decompongono in condizioni di compostaggio industriale. Se invece questo finisce in mezzo al mare, ci metterà mesi, se non anni, a distruggersi. E questo, nel frattempo, se incontra un animale e se lo mangia, è spacciato lo stesso. Sulle spiagge troviamo tantissime bottiglie e tapi di bottiglie, e questo è uno dei rifiuti che possiamo più facilmente eliminare. Ogni italiano, ciascuno di noi, ciascuno di voi seduta in questa sala, consume in media 200 litri di acqua all'anno in bottiglia. E questo in un paese, come l'Italia, dove l'acqua mediamente è buonissima. Quindi è un modo molto semplice. Usiamo una borraccia, evitiamo di usare e di comprare tutta questa acqua in bottiglia, ed è un modo molto rapido per abbattere il nostro uso di plastica usegetta. Ma c'è chi mi dice, ma perché se io la riciclo, la mia bottiglietta? E allora la bottiglietta di acqua, la plastica della bottiglietta di acqua, non tornerà mai a essere, una volta riciclata, di nuovo una bottiglietta. Diventerà qualcos'altro, tanto più se la bottiglietta d'acqua era colorata. Quella plastica diventerà un sacchetto della spesa, un pile, una panchina. Ma di quante panchine abbiamo bisogno noi? E poi alla fine comunque andrà smaltita. E quindi non facciamo altro che portare più in là il momento in cui dovremmo smaltire questa plastica. La realtà è che noi non siamo in grado di smaltire tutta questa spazzatura, tutti questi rifiuti che stiamo generando. E quindi la soluzione fondamentale è quella di diminuire, diminuire gli imballaggi soprattutto. Cerchiamo di comprare sfuso il più possibile. Ricordiamocene quando usavamo il sapone anziché il sapore liquido. Cerchiamo di evitare situazioni tipo queste che sono francamente assurde. Allora, basta veramente poco, basta un po' di consapevolezza per diminuire il nostro uso e abuso di plastica. Queste sono soltanto alcune delle mille idee che si possono avere per andare in questa direzione. Basta soltanto questo per salvare il mare? Ovviamente no, perché un problema così complesso non ha una singola soluzione. Il problema della plastica in mare deriva dal fatto che abbiamo una gestione dei rifiuti sbagliata, a volte illegale, certamente non sufficiente, però abbiamo visto che una parte importante dei rifiuti la generiamo noi nel nostro comportamento quotidiano. E quindi senza di noi, senza un impegno nostro quotidiano, per esempio come questo, la situazione di certo non si risolve. La buona notizia, come vedete, è che veramente basta poco, basta un po' di consapevolezza. E allora, negli ultimi due anni, da quando è partito questo progetto, abbiamo coinvolto più di 10.000 persone che hanno raccolto più di 10 tonnellate di cose. Immaginate se arrivassimo a 100.000 persone quanto riusciremmo a fare. Stiamo aiutando il governo italiano e l'Unione Europea a semplificare la questione dei rifiuti e stiamo aiutando i pescatori a riportare i rifiuti che raccolgono le loro reti a mare. Abbiamo incontrato migliaia di bambini che hanno fatto le loro promesse al mare da non lanciare i palloncini, a non usare mai più i bicchieri di plastica, usa e getta. Abbiamo convinto tre sindaci a bandire il lancio dei palloncini e anche grazie al nostro lavoro lo Stato italiano ha proibito l'uso dei bastoncini per le orecchie di plastica all'inizio di quest'anno e l'anno prossimo bandirà le microplastiche nei cosmetici. E allora, basta questo? Non basta, dobbiamo continuare. Certo, se avessimo iniziato 20 anni fa, a quest'ora sarebbe stato tutto molto più facile, però c'è un proverbio cinese meraviglioso che dice il momento migliore per piantare un albero e avere l'ombra era 20 anni fa e il prossimo momento è questo. Grazie. 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 Grazie.